Proviamo la pizzeria starita a Mater Dei, entriamo nella saletta interna e devo dire che è molto accogliente Vabbè, noi non siamo qui a fare le scarpe ai millepiedi, assaggiamo la pizza Ordino la mia solita margherita, dall'aspetto non è male, ma guardando bene... Nooo, ci stava un laghetto nella pizza Un vero peccato, anche perché dall'aspetto sembrava buona, dai scoliamo l'olio e assaggiamola Vi dico la verità, nonostante l'olio in eccesso, la pizza è buona, per ora lascio un sette e mezzo Però ritornerò per assaggiare anche la pizza fritta